Teresa Porcella, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuta davvero qui nel podcast del Posto delle Parole per farci incontrare, per un verso o per l'altro, Italo Calvino. E il libro pubblicato dalla casa editrice Telos vive di parole ma vive di immagini che non sono una diverso dall'altra ma si compenetrano, si attraversano le parole. Sono di Teresa Porcello e le illustrazioni di Andrea Calisi. Il titolo è molto ambizioso. È calviniana, niente meno. Teresa Porcella, bello questo titolo. Ma era un po' un gioco di parole così, in stile calviniano, giusto appunto, perché il titolo è calviniana e il sottotitolo è per un verso o per l'altro e quindi può essere letto in due modi. Cioè io sono calviniana per un verso o per l'altro o è calviniana la raccolta per tutti i versi che la traversano. Ecco, questo era il gioco di parole. Ecco, benissimo, partiamo proprio da questo aggettivo, no? Parliamo da questo aggettivo. Noi proprio ieri abbiamo incontrato Gennaro Serio che ci ha raccontato il suo romanzo Ludmilla e il Corvo ed è un romanzo kafkiano. Ora, quando noi diciamo kafkiano, bene o male sappiamo, no? Ed è nell'ordine delle nostre conversazioni, ormai è normale. Essere calviniano, l'aggettivo calviniano invece, che cosa definisce Teresa Porcella? Allora, definire calviniano è complesso perché Calvino è stato... Scappa da ogni parte. Scappa da ogni parte. Però se dovessi così provare a riassumere in poche parole quello che per me è l'essenza un po' dello spirito calviniano, direi che ci sono alcuni elementi irrinunciabili. Il primo elemento è dentro un realismo come dire ben digerito essere assolutamente fantastici e questa è la cifra di Calvino. Cioè avere contezza di ciò che succede in maniera molto minuziosa con la minuzia che era di Palomar quasi tignosa diciamo ma per superarlo è andare nella direzione dell'essere cosmicomici. Comici e cosmici, comici e cosmici sempre insieme. Cioè capire che la proiezione che noi abbiamo del fantastico nasce dall'esperienza che facciamo a necessità di trascenderle e per renderle esplosive deve mantenere quella chiave di ironia che in Calvino era sempre presente. È un po' quella cosa che lui dice di se stesso quando descrive il suo volto. Dice io ho delle rughe per genetica e poi ho sotto un sorriso una bocca che le smentisce per scelta. E c'è quella roba lì c'è una genetica che è la realtà la genetica dell'umanità è la realtà, il realismo e il sorriso che è quel lato volontario che noi facciamo che si innesta dentro quel realismo che però è invece la proiezione fantastica. Eh sì, la proiezione fantastica potremmo dire di un realismo magico totalmente calviniano ovviamente. Sì, perché poi lui era come dire c'era sempre una grande quota di razionalità perché le sue architetture sono geometrie precisissime scientifiche diciamo io nella mia vita oltre che scrivere ho fatto e faccio da tanti anni il mestiere di editor e quindi so che per ogni libro c'è un'architettura molto definita questo libro ha un'architettura che Calvino avrebbe sicuramente recepito semplicemente così girando le pagine le architetture però sono gli scheletri poi la carne il sangue e invece tutto ciò che ha a che fare con il fantastico. Tutto ciò che ha a che fare con lo fantastico poi però in questo corpo che ci ha appena abbozzato Teresa Porcello deve scorrere del sangue devono scorrere emozioni deve scorrere anche un pensiero e quant'altro scoliamo questo questo libro calviniano calviniano libro poetico in tutti in tutti i sensi un libro poetico che parte da una stagione tutti quanti noi quando diciamo le stagioni cominciamo sempre dalla primavera no? e invece no anche qui no? anche no allora sono partita dall'inverno questa era una cosa che avevo molto chiara sarebbe stato un percorso dentro un anno si parte dall'inverno per due ragioni la prima ragione è che se si legge Marco Valdo che è appunto le stagioni in città di cui io mi sono mappata in maniera molto minuziosa questo sì in stile calviniano tutte le descrizioni che si potevano recuperare per ogni stagione ce n'è una famosa dell'inverno quando lui dice che Marco Valdo apre la finestra e la città all'improvviso si era trasformata in una pagina bianca allora questa idea della pagina bianca da scrivere della neve che copre tutto appunto la realtà la neve la pagina bianca dunque il fantastico che deve disvelare il reale è un po' l'idea della scrittura perfetta secondo me la scrittura non cade sul foglio mettendo dell'inchiostro sopra diciamo ma togliendo il bianco del foglio per disvelare cosa c'è sotto la scrittura è scavare dentro e quindi il primo gesto è vedere la pagina bianca come la possibilità della scrittura poi c'è un'altra ragione fortissima che l'inverno come intesa come stagione del freddo come stagione diciamo così ancora un po' forse delle delle paure del rintanamento è la metafora che sta dentro diciamo i primi scritti di Calvino sulla guerra il sentiero dei nidi di ragno ultimo viene il corvo e poi però è anche dentro il titolo dell'opera delle opere cioè se è una notte d'inverno un viaggiatore che è l'incipit di tutte le storie possibili perché poi se è una notte d'inverno è diciamo così il meccanismo perfetto per inventare storie quindi mi sembrava giusto aprire appunto con se è una notte d'inverno un viaggiatore che ho messo in cima e fare un piccolo gioco calviniano anche qui perché la mia poesia diciamo si chiude con un gioco di parole che dice che in fondo la vita si snoda senza previsione tra il freddo composto di un inverno e la calda confusione di ogni inferno quella calda confusione di ogni inferno che è scarta per una sola parola allude al finale non citato ma evocato qui delle città invisibili che invece è l'opera che chiude la raccolta e quindi andiamo da un inverno a un inferno attraversando tutto calvino e qui la circolarità è veramente la parola la parola che attraversa che attraversa tra le tante questo libro a proposito di parole ci sono delle parole in ogni capitolo che ci ci portano dentro per così dire una bustola ci tracciano il sentiero la molteplicità la densità l'esattezza la musicalità la chiarezza ora leggendo queste parole non possono venire in mente le lezioni le lezioni americane di Calvino pubblicate da Garzanti ed è sempre bello buttare ogni tanto lo sguardo su quelle parole perché sono ancora sono ancora sono ancora utili oggi come oggi ecco queste parole in che modo tracciano la bussola per noi lettori allora le lezioni americane prevedono sei parole 5 più 1 e poi parleremo dell'ultima l'ultima incompleta che è incompleta è che io comunque stando anche all'ultima traduzione dell'ultima edizione delle opere di Calvino diciamo la parola è consistency qua è stata tradotta con cominciare finire ed è appunto la parola che viene messa sulle città invisibili che chiudono appunto la raccolta ma consistency è proprio come dire far quadrare il cerchio dare il senso completo al proprio percorso le altre sei parole che io metto dentro perché sei sono di Calvino e sei sono mie sono invece le parole che io avrei utilizzato per definire ancora un po' l'opera di Calvino sicuramente la parola comicità che torna anche nei suoi titoli pensiamo semplicemente alle cosmicomiche ma cos'era la comicità in Calvino è importante definirlo e per me stava perfettamente dentro il cavaliere inesistente la parola densità che è una parola a cui ottengo molto perché per me invece è la parola chiave che spiega la poesia e che io ho messo nel sentiero dei nidi di ragno la densità e la capacità appunto di come dire in uno spazio piccolo in poche parole dare una moltiplicità di significati questa capacità nella scrittura di Calvino è altissima Calvino non ha mai scritto poesia quindi la mia scelta di scrivere poesia è stata dettata anche da questo però ha scritto canzoni ha scritto canzoni infatti nello spettacolo che faccio cantiamo oltre il ponte che è una delle sue canzoni diciamo dei cantacronache che è una delle più belle devo dire ha scritto canzoni ma in realtà ha scritto anche molti giochi di parole filastroche dentro le fiabe italiane quando è andato a riattingere al patrimonio diciamo nazionale però aveva della poesia per la poesia un affetto e un rispetto sommo peraltro voglio dire uno dei suoi grandi partner e amati studiosi era tutti scialoi scrittori era tutti scialoi Calvino aveva molto chiaro questo concetto di densità dentro la poesia cioè centellinare le parole e devo dire che ci sono molti pezzi di prosa calviniana che sono versi se uno prende il cavaliere inesistente anche tutto il gioco di parole che fa Carlo Magno quando passa il rassegno ai soldati che io riprendo nella mia poesia è proprio metricamente perfetta Calvino aveva questa grande capacità dice anche appunto quando gli chiedono cosa portarsi nel terzo millennio dice poesia imparare a memoria perché diciamo ci danno una grandissima consolazione credo che forse questo omaggio poetico fosse il linguaggio giusto per ricordare Calvino e per essere diciamo non imitatori di Calvino in senso pedisseco ma invece estimatori di Calvino questo è il mio linguaggio lo racconto con un mio linguaggio che per lui era importante e quindi questa parola densità mi riallaccio alla domanda mi sembrava bello utilizzarla anche per uno scritto che non era in poesia ma che secondo me era una delle chiavi poi ce ne sono altre che diciamo la complicità abbiamo detto c'è la musicalità che è un'altra grande caratteristica di Calvino che ho messo nelle fiabe italiane perché lì la musica arriva veramente dalla capacità di far rifiorire tutti i dialetti o le scritture di italiano dialettale con cui lui è entrato in contatto in un italiano che riesca a suonare come la matrice d'origine e qui è stato un grande grande lavoro di Calvino c'è l'infinitezza in T con zero che è stata scritta col trattino perché è proprio un dialogo tra ciò che è finito e ciò che non lo è e questo è una costante di Calvino c'è la chiarezza che è un concetto di cui lui ha parlato molto anche fuori in tradizioni americane che è quella cosa per cui noi restituiamo i contorni delle cose lavorando sulla superficie quella leggerezza che poi lui ha citato che è collegata alla chiarezza quando lui fa l'esempio dello specchio e dice la chiarezza di cui parlo è quella dell'immagine che noi vediamo in uno specchio che restituisce perfettamente i contorni dell'oggetto che ha davanti ma l'oggetto in carneosa quindi quello profondo è di fronte ma l'immagine è in superficie ecco chi scrive deve riuscire a ottenere a ottenere questa precisione nella superficie che ricorda sempre che la profondità è oltre le parole la profondità oltre le parole è attraversa il segno il segno il disegno l'illustrazione di Andrea Calisi se le parole sono magiche altrettanto magiche sono le illustrazioni assolutamente sì Andrea Calisi ha fatto un lavoro straordinario peraltro diciamo anche nella dedica del libro che è a Calvino però è anche a un qualunque lettore voglia entrare in queste pagine si dice a chi come te fa scaturire parole dalle immagini e immagini delle parole che non è scusando il bisticcio un gioco di parole ma è quello che è successo questo libro è nato per una suggestione che è l'immagine di copertina di Andrea del barone rampante che io avevo visto tempo fa insieme ad altre immagini di Andrea e la bellezza delle immagini di Andrea che erano copertine diciamo di libri che a lui avevano risvegliato un immaginario sono poi diventate le poesie quindi è stato davvero un gioco di palleggio reciproco con Andrea a cui devo dire si deve a un grandissimo lavoro come all'editrice Luana Store di Telos che ha voluto questo libro vedendo la relazione tra le mie parole e i testi di Andrea le copertine non erano solo calviniane quando io ho iniziato a scrivere invece l'editrice ha detto ma secondo me prendiamo la mira su Calvino e facciamo un libro solo di Calvino e questa cosa ha funzionato calviniana per un verso o per l'altro Teresa Porcella insieme con Andrea Calisi autore di questo libro pubblicato come diceva poco fa Teresa Porcella dalla casa editrice Cetello una piccola di Campobasso con un'estrema cura perché bisogna anche sottolinearle queste cose che parlando di come si dice del contenitore cioè dell'oggetto libro e noi lettori quando incontriamo questa cura leggiamo ancora con più passione e questo libro calviniana è un libro per tutti quanti nessuno escluso io vorrei tanto che questo libro entrasse in classe e facesse incontrare in questi giochi di parole di immagini lo sguardo di Calvino Teresa Porcella guardi sì mi attacco alla cosa che ha detto in apertura e poi arrivo al secondo punto c'è dentro questo libro la grande cura grafica di Mauro Luccarini che è uno dei grafici migliori che noi abbiamo in Italia che ha condiviso questo progetto devo dire i lavori di squadra si vedono abbiamo scelto con cura il formato la confezione il lavoro di Mauro è stato secondo me ineccepibile nel tracciare proprio un garbo compressivo della pagina che è quello che noi vorremmo arrivasse anche appunto nelle scuole dove purtroppo non sempre i libri che entrano sono bellissimi la bellezza è un pezzo importante della diciamo così della appetibilità di un libro quindi deve essere curata e la bellezza è poi la somma appunto di contenuto e forma e materia le scuole hanno reagito al momento abbiamo fatto una serie di spettacoli alcuni li abbiamo montati con il teatro del segno a Cagliari e poi abbiamo fatto una bellissima giornata al teatro Savoia il Campobasso e c'erano in maniera devo dire perché era una pomeridiana una serale anzi e c'erano ragazzi di tutte le età alcune scorraresche che sono venute di tutte le età voglio dire dalle elementari e il libro sicuramente per una fascia più alta medie e superiori la reazione dei ragazzi è stata devo dire commovente cioè c'era un tifo quasi calcistico durante lo spettacolo quando riconoscevano il libro letto quando dentro la poesia scorgevano una chiave di lettura o comunque quando dentro un testo non letto si facevano incuriosire dagli elementi che venivano fuori quindi io credo che davvero sia un libro spendibile dentro le scuole per capire che quel calviniano con cui io gioco nel titolo è un aggettivo di cui ognuno può entrare in possesso dichiarando la propria fede calviniana che in questo caso è appunto non una fede religiosa ma letteraria per raccontare il proprio percorso di lettore e questo libro non è poi solamente riservato ai piccoli o ai giovani lettori perché è importante nella postfazione scritta da Angela Catrani leggo a chi è destinato calviniana i lettori appassionati di Italo Calvino prima di tutto e poi via di questo passo chiude dicendo a tutti quelli infine che hanno tutto il diritto di non conoscere Italo Calvino e di potersene innamorare credo che il verbo innamorare in queste pagine si possa incontrare molto facilmente Teresa Porcella grazie grazie la postfazione di Angela è molto centrata e secondo me appunto mette a fuoco questa cosa qualcuno diceva i libri belli sono per tutti i libri brutti per nessuno ora non devo dirlo io se è bello o no però c'è del cuore in questo libro c'è della cura c'è dell'attenzione e c'è sicuramente diciamo così una luce un po' come quella della luna in copertina che arriva da Calvino lei ce l'ha il libro portata di mano ce l'ha sì ce l'ho e allora facciamo questo questo gioco che facciamo normalmente quando raccontiamo la poesia Teresa Porcella chiediamo al nostro ospite in questo caso lei Teresa di aprire il libro a caso e di cominciare a leggere vediamo un po' a che pagina ha aperto adesso lo prendo vediamo dove si apre da solo è andato perché stavo studiando è andato alle città invisibili è andato in fondo bene e allora ci faccia ascoltare le città invisibili invisibili agli occhi invisibili al cuore invisibili strade senza dor di rumore invisibili tetti senza muri di gatti invisibili saggi senza voci di matti invisibili porte senza sguardi vicini invisibili scuole senza corpi bambini invisibili porti senza ferri di navi invisibili ricchi senza sudori schiavi invisibili morti senza rimpianti vivi invisibili tutti se tu poi non li scrivi invisibili storie senza chi fa domande invisibili querce senza festa di diande invisibili al cuore invisibili agli occhi città sempre invisibili solamente agli sciocchi ma per chi non avesse mai incontrato la scrittura di Calvino con quale con quale libro potrebbe cominciare Teresa Porcella io sono diciamo dipende anche dall'età perché questo chiaramente poi c'è le città invisibili per esempio non è un libro che puoi leggere io credo che la la trilogia sia una come dire un attacco dei più belli perché dentro la trilogia io ci trovo un'ironia una festosità rare non so come dire a me colpisce sempre Marco Valdo è un passepartout per tutto ma io dovessi scegliere sceglierei la trilogia eh sì la trilogia come si realizza quella la storia dell'essere umani no? poi io devo dire per esempio c'è che so le cosmicomiche ci sono alcuni dei racconti delle cosmicomiche tutto in uno è una di quelle cose che ogni volta che lo rileggo come dire lacrimo dalle risate da quanto è geniale da quanto è ben scritto cioè i racconti ultimo viene il corvo cioè le raccolte di racconti sono stupende però se penso a un lettore di oggi ecco una cosa che può aprire questo rapporto geniale col passato perché poi dentro la trilogia c'è tutto l'ariosto c'è tutta la lettura di Calvino del mondo classico e tutta la sua capacità di essere teatrale ironico godibile furbo non so io lì mi sento a casa è bello sentire dire di essere a casa leggendo ricordo anche le nuove edizioni dei libri di Italo Calvino molto belle molto molto belle sono molto ben curate allora il consiglio è compratene una e poi seguitele le fate e le fate avere nella vostra biblioteca di casa tutte quante perché sono una festa anche degli occhi grazie davvero Teresa Porcella e buona giornata grazie a voi grazie a voi buonissima giornata arrivederci